Il presidente Giovanni Totti, che effetto fa a venire a Rally Sanremo a vedere tutta questa gente? Tanto è una corsa che fa parte della storia dell'automobilismo dell'Italia, quindi è una bella emozione. Poi dopo il Covid a vedere la gente per strada, a guardare questi voli di in partenza, è un altro momento della primavera della Liguria che riparte e credo che sia un altro successo che ci siamo conquistati. È una bella manifestazione sportiva e soprattutto è un momento di vita per una città del ponente importante come Sanremo e il suo territorio, quindi direi una bella impressione. Grazie